Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho scoperto come si chiama la pietra che ho trovato, che sarebbe questa qua e anche questa, che è lo stesso tipo, che è un tipo di gesso, che è la selenite. Faremo la selenite al dettaglio e anche l'ambra. Ok ragazzi, cominciamo dalla selenite. La selenite è una pietra lunare e rigorosamente femminile, delicatissima. Bisogna maneggiarla con estrema cautela, soprattutto quando non è stata lavorata e si trova allo stato grezzo. Io ne possiedo una sola bacchetta, dalla lunghezza di circa 7,8 cm grezza. La foto la potete vedere proprio qui sotto. La selenite ricorda molto il gesso, tranne per il fatto che è opalescente e appartiene in effetti alla famiglia dei gessi e viene spesso confusa con la pietra di luna, a causa della sua traduzione letterale del greco, selenites, la quale è appunto pietra di luna. La selenite è cristalloterapia e è legata al settimo cacra. Per molti presentano un ponte che permette di comunicare con il divino. Il suo colore varia dal bianco al trasparente. In passato viene utilizzato come bacchetta, cioè canale per entrare in contatto con il sé superiore o l'universo. Se avete scelto la selenite per caso attratti alla sua bellezza, sappiate che avrete tra le mani un cristallo con sistema monoclinico. La selenite è la prima pietra con questa struttura cristallina che analizzo qui su Alchimia delle pietre. Proprio come la selenite è una pietra lunare e per questo associata alla donna da lunacità, il vivere secondo le emozioni, eccetera. Anche la persona con un stile di vita monoclinico si fa trasportare con altrettante facilità nel mare dei sentimenti, arrivando a sembrare anche in costante, probabilmente non amante molto, le cadenze imposte e la fare lavorare per obiettivi. Quindi, proprio non vi va giù. Amatevi per il presente così come viene, tuttavia volete rispettare gli impregni presi quando si tratta di non deludere gli effetti. Ragazzi, questi non sono quelli da collezione, quindi le ricerche saranno un po' più lunghe perché le ho causate su internet. Ok ragazzi, adesso vi parlerò dell'Ambra. Ok ragazzi, ecco la presentazione dell'Ambra. L'Ambra è una resina fossile che ha subito un processo di fossilizzazione, non è un minerale, si tratta quindi di un materiale di origine e composizione completamente organica, è perciò una paleoresina originata dalle segreazioni di piante leguminose, dal genere chimenae, specie ormai estinte da milioni di anni. Analizzando resti di piante, insetti, fossili, presenti nell'Ambra messicana, è possibile rinvenire nella resina fossile risalente a circa 22-26 milioni di anni fa, permettendo la ricostruzione dell'ambiente di quei tempi. Ok, l'Ambra si presenta in quantità e colori, è sfumatore dal giallo miele, il più comune, al bianco, al rosso, al bruno, al verde, al blu. Colori. L'Ambra rossa. L'estrazione dell'Ambra rossa si effettua quasi esclusivamente nella regione di Chiavas, messico-meridionale. Se ne estraggono mediamente 150 kg all'anno, costituisce meno del 15% dell'estrazione totale messicana. L'Ambra gialla. Se ne estraggono circa 600 tonnellate ogni anno, principalmente nella zona del Mar Baltico. Dai giacemetti del Chiavas ne vengono solo circa 800 kg ogni anno. L'Ambra del Baltico, più vecchia, ha però caratteristiche di non essere trasparente, se non in casi rara. L'Ambra del Chiavas, più recente, è invece trasparente per natura. Ambra blu, Ambra rossa, Ambra bianca, quella del Baltico, è detta imperiale, Ambra cognac e Ambra verde. Sono da considerare delle vere e proprie pietre preziosi, o meglio gemme preziosi. Ok ragazzi, questa è la descrizione dell'Ambra. Adesso vi faccio vedere insomma un po' i pezzi. La mia è sul rosso. Questo bello, questo pezzo. Qua. Le ho lavate molto accuratamente e non si sono sciolte. Sembra fuzia. Questo è il pezzo che a me piace di più, che è molto più chiaro. Ok ragazzi, sono molto piccoli questi pezzetti. Praticamente io ne avevo messa una un anno fa, quindi non credo che ancora si ambra. Però poi l'ho toccata, io la volevo togliere piano piano, perché pensavo che era appiccicata. E poi mi è sfuggita dalle mani, si è spezzata e è uscito questo. Quindi molto bello. Qua la selenite. Faccio vedere. A proposito, domani uscirà un'altra puntata di cerchi minerali con voi. Forse domani, dopo domani, uscirà la live. Però forse ragazzi, forse non uscirà proprio, vi faccio uno speciale di tutti i miei minerali proprio. Questa è la selenite, solo un po' ricoperta di gesso. Anche se la selenite è tipo di gesso, questa sembra un po' più gesso. Questo è un piccolo pezzetto di guaccio che ho trovato. Questa era la cosa stranissima, che adesso non mi sembra più un piede, ma... Piedre... Non mi sembra più un piede, adesso è tipo delle cose delle larve, ragazzi. Insomma, lo metto qua. Vedete? Questo l'ho trovato nella buca in cui avevo fatto vedere quando andavamo a caccia di minerali, che avevo fatto un altro video. Questa non è proprio ambra, quindi... Però è molto dura, eh. Guardate. Quindi... diventerà ambra, perché io non l'avrò pesa dopo un annetto. Ok, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, cliccate la campanellina, iscrivetevi e... Ciao! Ciao! Grazie a tutti.